buongiorno a tutti ragazzi in questo nuovo video parleremo beh non ve lo aspettavate dino under una nuovissima serie che non è mai fatta io lo conosco perché ci ho giocato ma non ho giocato fino alla fine sono arrivato mi pare come stagione forse 5 6 ma con voi la con vedremo tutto ok ragazzi quindi vi ho con una buona visione ragazzi eccomi qui vediamo se lo troviamo o eccolo qua l'abbiamo trovato come questa immagine aspettate ragazzi aspettate l'immagine pare che è di freddo che cosa ci sarà bu non si sa beh intanto installiamolo va e iniziamo a giocare gli altri che sono tutti i 27 non è che posso farli tutti contemporaneamente devo fare un sotteggio quindi prendere di nuovo il dato e poi decide di nuovo il giorno che non è che posso farli tutti il 27 ora c'è giurassi park dopo ed è segnalato il 27 27 tutti i 27 invece gli altri ovviamente sono di data diversa quindi non l'ho cambiato ma qua ci vuole il sotteggio di dino under ovviamente è classificato come oggi doveva uscire tipo quando era uscito angry dragon mi pare che era il venerdì o giovedì non si ora è perché un leggero ritardo capito ragazzi ok andiamo ragazzi lo scopo del gioco ovviamente cos'è ammazzare i dinosauri e ammazzare i dinosauri che è successo alla grafica no e sta nevicando anche aspettate sta anche nevicando qua mi chiedo un sacco di informazioni aspettate o meno male quello penso che è un allosauro copsognatus t-rex terodattini sta nevicando ragazzi in dino hunter è arrivato prima qui il gelo ovviamente già siamo a dicembre già sta nevicando ragazzi è poca però sembra meglio di niente dobbiamo aspettare che si aggiorni questa è una nuova serie ragazzi io ci ho giocato ma con voi mai da piccolo mi è piaciuto tanto da più dall'iPad dal tablet che poi ho avuto un problema della batteria e non mi ha più funzionato e quindi si è rotto ma era un tablet molto buono la digra si chiamava forza andiamo a ammazzare i dinosauri c'è anche il gioco degli animali però io non vorrei farlo ok incominciato andiamo a ammazzare i dinosauri non mi fa entrare ecco no no non mi interessa stiamo per iniziare ragazzi un un veloci raptor ma che è non ha la testa ovviamente è strano non ha la testa o forse è il problema della grafica se sarà il problema della grafica nel gioco può essere come dicevo questo qua lo scopo del gioco è uccidere i dinosauri tutti i dinosauri carnivori anche quelli erbivori ho visto che era il problema della grafica attenzione perché questi sono pericolosi appena in tempo si livello 2 va bene aspettate che devo vedere quando siamo arrivati questo è un erbivoro ragazzi il cervello il cervello forse è meglio che la disattiva la tele è la stessa cosa come angry shark ragazzi ma che sono solo i raptor a non vedersi la faccia ma può essere un dato è così quando ci giocavo non erano così sarà il problema del gioco una cosa del genere prima era di vendi ragazzi me lo ricordo l'hanno aggiunto di più due erbivori questi sarebbero cuore cuore no il tronco sta nevicando anche no un t-rex ragazzi un t-rex dobbiamo stare più che attendi attentissimi alla svelta perfetto no no sta venendo da questa parte forza e vai nevica poco però non ce n'è neve a terra ragazzi va bene gli infrarossi servono a vedere le parti gli infrarossi servono a questo ragazzi a vedere dalle parti non c'è bisogno perché io le so dove sono il merino anche ma sono solo i raptor a quanto pare di sì ma perché due per fortuna che due ne devo abbattere no 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 non è giusto non è giusto meno male meno male meno male meno male ragazzi a che brutta fine potevo fare questo potrebbe attaccarmi visto sta venendo da questa parte a che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.